1980. Roma. I NAR uccidono Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica. 1994. Dopo aver abolito l'Apartheid, Sudafrica riammesso all'ONU. 1894. Parigi, primo congresso olimpico dell'era moderna. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia. Nasce a Napoli Giambattista Vico, il filosofo della storia e della parola.